Ma è vero, le Victors respira vivo si sentono nella gola e anche nel naso, comprare con... Anche al gusto menta, limone e arancia. Capitan Findus, oggi noi siamo al bianco di capitani in cerca di avventure. Mamme, c'è solo bianco e buon merruzzo croccante nei bastoncini di Capitan Findus. Buon pesce, tanto gusto, tutta forza! Campari soda, mai neanche assaggiato. Non perdo mai le previsioni del tempo. Metto l'antirughe tutte le sere. Chi campari soda e chi no. Signorita, per favore, passa per qui, tenga la bondà, passe, passe, venga. Pegate la pare, apre le pierne, volteate. L'Uvenia Libress Ultra. Il massimo dell'assorbenza in soli 3 mm. Il massimo del comfort grazie al filtrante asciutto e alle ali. L'Uvenia Libress Ultra. Così naturale, così femminile. Santa Lucia ti regala tupperware, la maxi ciotola o i 3 contenitori ermetici. 15 punti e in un attimo li avrai. Ciao, sono morta. No, 8 ore in piedi. Gambe riposate, scattanti. Dopo 8 ore. Calze Sanages. Ah, Sanages, come le scarpe di Carla Tracy. Sì, è l'ultima novità. Calze a compressione morbida, massaggiano senza stringere e guarda, nessuna piega. E che linea ti danno? Senti che morbide, tocca, senti. Tocca. Ah, che morbide. Sanages, i collana a compressione morbida, in farmacia e ortopedia sanitarie. No, no, ancora non va, muoviti un po'. Eh, ma va più a destra? La nuova Opel Astra Station Wagon è così bella... Ancora più a destra. Che tutto il resto passa in secondo piano. Ecco. Perfetto. Sei bellissimo. E ha nuovi motori, così sorprendenti, che qualcuno resterà indietro. Con un'auto così, la passione scatta subito. Nuova Opel Astra Station Wagon. Più conosci le auto, più ti piacerà.